Musica Ritorna la Shevalet Europea del 1920 per la concorrente numero 22 Miss Orizzonte Moda Elena Bragatto Buonasera, mi chiamo Elena e ho 18 anni, sono una studentessa e il mio hobby è l'imitazione Musica 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 Grazie a tutti. 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 Facciamo con quelli che abbiamo. Tutte le ragazze che hanno lo staff. Niente, niente ragazzi. Non ci tenere in suspense. Eccoli qua, eccoli ragazzi qui. Vuoi che li spari io? Li hanno presi da fuori. Bene, e allora? Voi dovete spararli quando naturalmente dico il numero, eh? E allora, signori e signori... Un po' di suspense, no? Fascia, sì. Centro e Corona sono pronti, perché Miss Città Murata 2018 è la concorrente numero... 22, Elena Bragatto! Passarella per la nostra Miss Città Murata 2018, Elena Bragatto. Passarella per la nostra Miss Città Murata 2018, Elena Bragatto. Ciao, sono Elena Bragatto, Miss Città Murata 2018. Ciao, ciao! Ciao, ciao!